500.000 euro in favore dell'ASREM grazie a una donazione ricevuta dalla Regione dalla Banca d'Italia del Molise. 800 tamponi in fase di acquisto e 6.000 volontari, quelli coordinati dalla Protezione Civile finora, per l'aiuto alla popolazione. Sono questi i numeri più importanti emersi dal tavolo permanente sull'emergenza coronavirus che è tornato a riunirsi in queste ore. Il presidente Toma ha dapprima ricordato il calo del trend di contagio e l'effetto delle misure di contenimento messe in campo. Ha spiegato il lavoro che sta svolgendo la task force scientifica per delimitare i cluster, monitorare le persone che hanno avuto contatti con i positivi, controllare i focolai per impedire la diffusione del contagio. Poi la notizia della donazione da 500.000 euro dalla Banca d'Italia, appunto, subito girata all'ASREM, che consentirà l'acquisto di 800 tamponi molecolari di nuova generazione. Si tratta di dispositivi con cui si ottiene un risultato attendibile in un'ora. Inoltre ci si doterà anche di strumenti tecnici che consentono lo svolgimento di test molecolari. Questo dispositivo esamina solo 4 test all'ora, ma sarà comunque utilizzato per i pazienti da ospedalizzare. Il direttore dell'ASREM, Florenzano, ha stilato poi una sorta di bilancio della gestione attuata sinora, ricordando che dall'inizio si era immaginato uno scenario peggiore rispetto a quello attuale e quindi erano stati predisposti i percorsi per individuare più posti in terapia intensiva. Sotto la lente restano le RSA. Finora le strutture monitorate sono 60, con un bacino d'utenza complessivo di circa 1.800 unità. Sul fronte delle assunzioni sono stati ingaggiati 26 infermieri, sono in corso di contrattualizzazione altre 20, mentre 50 hanno rifiutato, 31 gli os assunti e 18 medici neolaureati ingaggiati, con due medici specializzanti in malattie infettive e geriatria, uno specialista in radiologia e uno specialista in medicina interna. Il direttore del quarto dipartimento, Brasiello, ha fatto il punto sul materiale per la gestione dell'emergenza che è stato richiesto e ricevuto dalle strutture nazionali. Infine la direttrice della protezione civile dell'Isio ha reso noto che la struttura in questo mese e mezzo ha coordinato e impegnato 6.000 volontari, assicurando una serie di servizi per la consegna di derrate alimentari o medicinali alla popolazione molisana sull'intero territorio regionale. Grazie a tutti.